Natale sta arrivando, ma con Fiat non sarà il solito Natale. Acquista una nuova Fiat rottamando la tua vecchia auto e ti conviene tre volte. Hai subito fino a 5.000 euro di incentivi, finanziamento con interessi zero tag 280 e anticipo zero. In più, solo fino al 31 dicembre, hai altri 500 euro di extra bonus su tutte le vetture in pronta consegna. Dai, scatta! Ma scatta davvero! Passa a Fiat prima che passi l'offerta. Grazie a tutti!